Salve a tutti ragazzi e benvenuti anzi bentornati in un nuovo video insieme a Nico che si è spiaggiato su del... Ah, è sbagliato. Il mio nico è sopra questo. Amir Kaka. Mi chiamo Amir Kaka. Tutti chiami Amir Kaka. Amir Kaka sono io piace. Amir Kaka o Kaka? Kaka. Kaka. Vabbè, ragazzi siamo in un parkour e se... nel caso remoto, molto remoto, dove si perdere... Devo offrire un brand a Nico. Io non ho capito niente di quello che tu hai detto, comunque. Allora, se io dovessi perdere questo parkour, cosa che non succederà mai e poi mai... Aspetta, non iniziare. Ti devo offrire il pranzo. Eh no, ti devo offrire il pranzo, ti dico. Ok, e tipo pranzo costoso, tipo sushi. Beh, sushi non è costoso. O yukinit non mica è costoso. No, eh sì, allo yukinit io non ci vengo, scusa. Ma se devi vedere yukinit, Nico? No, no, ma c'è ancora lì, Nico. Sushi è perché non avevo visto lo slime. Sushi, ma sushi costoso, scusa, tipo quello di lusso. Io non ti porto i sushi di lusso, ti porto allo yukinit. Come no? È buonissimo lo stesso, lo yukinit. No, io non ci vengo, lo yukinit. Ma te che è buonissimo. Voglio andare in uno quello di voi. No, 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 non ti avevo visto, è ridito di me, è ridito di me. Allora, comunque... E let's go! Vedi che ci sono 40 stage. Certo. Non li facciamo tutti... Eh no, non è vero. Non li facciamo tutti 40 stage, tranquillo, Nico, però... Perché no? E faremo, boh, 10, 15, va bene? Allora, l'importante è che non smetti quando tipo... BASTA! Dicevo, l'importante è che non smetti quando mi superi. Perché, cioè, comunque dovessi giocare onestamente... No, ma al quindicesimo, va bene? Al quindicesimo... Al quindicesimo... Al quindicesimo... No, 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 ma tu vai avanti, tu vai avanti. Ma secondo me è meglio che t'aspetto. Cioè, se no non c'è sfida. Comunque, toccare le persone così... Dico, mi hai buttato giù sette volte, ero davanti a te. Sette, sette, l'ho contato, sono sette. Due, 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 due. Stage numero due, ce l'ho fatta. E ma cosa devo fare? Dico, dove sei? Ti sto raggiungendo. Non mi devi guardare... La smetti che stai andando, troppo veloce. Dove devo andare? Eh, a destra. Woo! E ora? E ora dove? Sono veramente confuso. Guarda che sto arrivando. Ok, buongiorno, non so, venito, come va. Toco? Eh? Guarda il mio, ah, non li puoi vedere i miei checkpoint? Eh no, non li vedo, i checkpoint, anche su un'altra. Non è possibile. Non qua, Gianni, come stai? Come hai fatto ad essere già qui? Scusa, ho seguito strada, no, non di iniziare. Dico, non devi, non dico, no, non devi, no, non devi, no, non devi, via, oh, perfetto. Io l'odio. Cosa odi, i parkour? Il gioco. Oh, no, mannaggia. Guarda che ci ha approvato. È certo che ci ha provato, è certo che ci ha provato, ma dove vado? È in monto, dico, no, non qui, no. Ah, ma te lo dice anche, ma è intelligente questa mappa. È giù. Albero. Albero. Per cui si è studiato, dannato, loco lochis, dannato, dannato. Ah, c'è il checkpoint. Sì, 4 di 4. Eh, dico, ti aspetto perché sei scarsissimo. Anzi, non mi aspettare, non mi aspettare. Non muovi neanche che tu pensi queste cose. C'è tutto i repli, sono ca... Ah, ma se tu con l'acco muoio. Che bitone dell'immondizia. Cioè, muore pure. Come ti pensi, ci sei il repli, sono un repli molto pratico. Muore pure, muore pure, cioè, su Minecraft muore, ma ci rendiamo conto. Dico, ti aspetto qua, lo fai te, vai. Non mi aspettare, non c'è bisogno, cioè, sono forte di mio. Se mi spingi giù, te lo giuro che la tua vita termina quest'oggi, te lo gioco, proprio smetti di respirare, te lo dico. Ah! Dice il checkpoint, dico, tranquillo. Ah, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto. Dai, cadi, cadi, cadi. Ciao, loco. Ciao, loco. Ma com'è divertente la vita di Minecraft. Ciao, loco. La vita su Minecraft divertente. Dove devo andare? No, perché, ragazzi, Nico lo sfido sul parkour, perché Nico sul parkour è più scarso di me. Allora, io non sto tryhardando. No, ma è un po' lato. Nico è scarso, Nico è scarso. Io, Nico, non sto tryhardando, perché sennò avrai già vinto. Il video diventa noioso. Ah, sì? Diventa molto noioso il video si è tryhardto. Anche io dicevo così, quando da piccolo perdevo. Poi ho imparato a vincere, e quindi non perdo più. Però... Ma sito di me è buco. Ma certo che non ho detto di te. L'ha detto di te. Stupido. Ah, non vedo nulla. S'è occupato. È occupato. È occupato. No, no, no. È occupato. No, 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 no. No, 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 no. Non vuoi neanche cittare. No, 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 no. Collective. Collective item? Cosa vuol dire? Collective item? Dove collective? Voglio anche un collective item. Come faccio? Non lo voglio prendere io. Collective item è qua. Non lo voglio anch'io. come si prende di andare qua a destra mi sapevo saltare ho visto unico si fatta e temi che torno lì ma attenzione presa tornare che così con giovata sono tornato al punto di prima e finalmente ci abbia fatta nico perché mi hai detto che non te ne frega niente di cosa è di quella cosa tagliata con la parte nessuno ha sentito perché c'è ma poverino poverino non meno interessa l'ho tagliata quella parte nessuno lo sapeva mai di chi sta parlando ti credo sei paolo con l'occhi a che stage sei nico qua aspetta respawn wand non devi toccare spunto di cosi a tocchi respawni non vuoi esponare non puoi esponare anche fatto ogni costo superato e ma perché non ho capito come si fosse a livello non so caduto di nuovo ma stupido guarda la mia faccia guarda che credo che sono guarda se guarda che credo che sono è invece no invece no è il sole a che per la permanenza su questo pianeta terra non è finito sto facendo il parkour si si ce l'ho fatta ce l'ho fatta ti ho trollato ti ho trollato malamente ci sei cascato come un asino un pollo falso un tacchino io che mi fido pure oh ma guarda mai fidarsi di loco mai fidarsi di loco davvero sono troppo stage numero se inico cosa facciamo l'ho vado che ti aspetto o vado pure avanti io direi giocare legalmente no legalmente le almente le almente le almente anche anche legalmente ovviamente no anche le almente legalmente non mi aspettare le alberto che non le alberto legalmente le alberto la eh sì no il fatto da fare un po' papa sono cattivo sono molto cattivo nico mi siamo appassatiato quello che stai facendo lo sai è un attimo che mi devo mettere slow falling perchè sono qui la situazione drastica nico ah ok sta arrivando piano piano arrivo io vado avanti nel caso arrivo potrei andare anche avanti effettivamente hai ragione sì no nico no no non andare avanti non andare avanti bravissimo eccomi qua la nico io ti dico avevo visto una cosa e nico seguimi vieni qua nico avevo visto una cosa in passato riguarda questa mappa tu hai spoilerato la mappa no è che anziché far tutto il giro si citta qua è molto facile tu hai spoilerato la mappa ecco non l'ho spoilerata non l'ho spoilerata sostanzialmente che si citta metallico no nico ti vieni di qua la nico cosa ci fai qua? sto provando a fare un cheat che non riesco a fare fermati che ci puoi fare nico? la mascherina la mascherina smettiamo di buttarci giusto 57 minuti e ci buttiamo giù sei tu che mi stai picchiando di continuo e te lo giuro che se mi ritocchi un'altra volta per te è proprio la vine del mondo che c'è qua? no! ce l'hai fatta non c'è del podo oh livello di 67 che bello non mi ha rimbalzato neanche tu hai rimbalzato io ho rimbalzato ho rimbalzato io nico godo nico? no! nico! godo tu sei un cheater io guarda che non ti offro il pranzo se tu chitti ho un po' di vendette arretrate mi puoi dire cos'è che vorresti dove vorresti che ti portassi a pranzo? sushi buono non olukenit nico olukenit già spendiamo 50 euro olukenit in due come fai a spendere 50 euro olukenit scusami? è 20 euro a testa per olukenit ah maronna! eh se vuoi mangiare bene no è 15 no ho capito ma olukenit 20 euro dove stai andando? ah boh c'è il zelenblock nico zelenblock c'è 15 in settimana poi la sera il weekend costa 20 è tanto nico c'è vabbè ma allora scusa se devi spendere 20 euro spendi 20 euro in non ulukenit ma se vuoi ti porti un rossi di... non so parlare un ristorante di lusso sul lago oh no voglio andare da cracco cracco non è Bergamo è Milano lui vabbè paghi anche il treno per Milano dove devo andare? nico nico di panico ma ci sono delle... delle cose dei pali portami da cracco però non ci posso credere se hai fatto lo te lo giuro per la novità a fine eh devi levarti se ti prendo 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 se ti prendi ti muori no 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 io non ti ho neanche toccato è caduto da solo hai già capito che chiesto non ce la fanno neanche da solo ma è perché io la miseria nel senso nel senso tu parli ma parli 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 ma poi l'idea che hai cambiato... lingua intanto è un dialetto non è una lingua no ecco è una lingua comunque è un'altra lingua cioè è un dialetto di lingua ho sempre la stessa lingua guarda questa qua e a fortuna non la vedo e sinceramente non mi interessa vederla vabbè è tipo rosa non so se l'hai mai vista una lingua davvero? è umida spesso perché comunque cioè nel senso c'è la saliva non vuoi la saliva comunque è umida e poi? poi non lo so come hai fatto una lingua basta cioè non so come descriverti una lingua non parlo non dovevi neanche iniziare a farlo sinceramente ma perché respiri ancora io me lo chiedo spesso perché? cioè mi parli tu parli io intanto ti raggiungo non so c'è bisogno qua servono i fatti non servono le parole nico i fatti sono importanti qua non so se tu lo sai io mi dissocio da quello che ti ho appena detto non lo so posso tenerla questa o meglio tagliarla? non lo so cosa dici meglio tagliare? tagliamo tutto nico? nico cioè io sono già quasi al sono al 12 sono al 12 nico sono triste e guarda che non ti offro il pranzo sono triste e sei triste e e poi continuo sono triste e è una canzone? no no? non conosco queste cose niente un axolotl dove dove dove? ciao l'ho perso un pochino si ma tu loco non c'è rush e non vedi neanche queste cose bellissime guarda non l'avevo visto voglio come si prende axolotl fallo in tetto nico ciao si si nico l'axolotl aspetta ma quindi vorrei fare tu 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 sei di tipi eh che sono morto avevo già preso già quanti se mi uccidi ahahah ahahah ciao dico come stai? ma non ti vedo giuro che quest'oggi giuro che quest'oggi per te la vita termina sono passato sono passato tu sei un passato di via 2 la vita è fatta se si può sentire vabbè cosa? no no cosa ma se poteva salire scusa ma mannaggia te che non mi dici le cose mannaggia te che non me lo dici anche prima di farle e porca di quella miseria sono caduti ma nico io non mi studio le mappe sennò non sarebbe divertente sennò allora cosa mangio per cena tu non lo so io mi sa che mi mangio una pizza ogni volta che ti chiedo cosa mangio dici la pizza mangi quante pizze magia settimana alla settimana minimo 5 si minimo 5 serio uno di a pranzo poi quattro divisa tra le serie della settimana un sacco sì io mangio pizza tutto cos'è i baffi 3 oggi si è bruttissima salve salve signore come come sale youtube il signore è un bg abbastanza francese di tu non hai bisogno di baffetti non ti parlo più lo sai dopo questo video mi dici da dove si è entrata nico ma nico ma sei stupido è entrato c'è un buco nico nico non puoi mettere i blocchi c'è un buco della porta di casa c'è la guarda c'è un buco lì non mi interessa vado ma scritta la vicenda Landwui mangui panque modo vissima non già un bui ma che mittronuve 2k duet 2000 diventare ma che ne so ma su le foglie nico o Nico? Ho sbogliato Ti partito a me, Nico Ti partito a me, bravissimo Qua, Nico, Nico, sei andando al contrario Ma comunque soffio di te che Non so più di te, sei una persona orribile, fai schifo, devi invergugnarti Aspettiti di rompere i blocchi e piazzarli, creativa Non funziona la creativa Come funziona la creativa? Purtroppo non deve usarla a set block, però sì, comunque Nico, sai che chi finisce questo stage ha vinto? Ma guarda un po', c'è una strada qui No, 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 la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, no, no Ho vinto L'ho fatto prima io, l'ho fatto Ragazzi, chi secondo voi ha vinto, secondo me ho vinto io Nico sta andando avanti, ma tanto è finito con i miei baffetti bellissimi Non metto l'axotica molto più bello Ragazzi, per questo video vi si è piaciuto Magari non è possibile, potremmo continuare con questa bellissima mappa Non lo facciamo Grazie, quindi ditemi chi ha vinto Perché in teoria, secondo me abbiamo pareggiato No, no, abbiamo pareggiato Quindi dovete nei commenti chi secondo voi ha vinto Io vi ringrazio per il vostro video Grazie per essere stati Ciao a tutti Sono le 6.17 Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti